Ora? Vai, va bene, giusto, giusto, giusto. E... azione! Com'è la vita dello stunt? I set di ricata mi distruggono. Sì, ancora vivo? Non ti sei ferito? No. Come mai? Perché... È una novità per te. Ma è la nostra mascotte. Mi sono sempre carichi? È un video? Sì. Buona! Ok? Mi piace. Questa era buona, tutta tutta, bravo. Mi piaceva di più. Io sono l'operatore Samsung. Che cosa? Che cosa stai facendo? Sto caricando come una bestia. Questo è il secondo giorno? Secondo giorno? Mi sembra il quinto. No, a voi? Impressionismo, qua. Sì, siamo pronti. Sì. Sì. Però secondo me è il quale ci sia. Posizione! Azione! Quindi tu per lavoro fai il... L'attrezzista. 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 r handing at out. Che punto? Che punto? L'attrezzista. Che punto? Che punto? Crimera di pane. Quattro tra il via e ma e poi senti mai a Syraccius tutti tutti tutti. No! Dai! Azione! Pronti? È una bestia! Bella! Ma come ti animati questa? Ma questi cazzo? No! Finesso! Disordena! Venite!